Dopo anni di attesa riapre il parco Spigarelli al quartiere San Gordiano di Civitavecchia. Un parco che rispetta tutti gli standard europei per la salvaguardia e la fruibilità dei cittadini in misura di controlli e sicurezza. Sappiamo che la burocrazia impone dei ritmi e dei passaggi assolutamente obbligatori, però insomma siamo riusciti ad aprire, è un progetto che nasce con la vecchia amministrazione, ci tengo a ricordarlo, e che comunque noi abbiamo portato a termine perché è una bella realtà per un quartiere importante della nostra città. Quindi grande gioia, ancora una piccola pietra che si aggiunge a un lavoro più complessivo che sta facendo questa amministrazione e che credo che stia dando dei risultati tangibili. Abbiamo lavorato duramente affinché fosse a disposizione della cittadinanza nelle migliori condizioni di fruibilità e di sicurezza. Notiamo anche all'interno dell'area ludica i giochi inclusivi che consentono comunque anche a bambini con disabilità motoria o comunque disturbi di poter fruire in piena sicurezza dei giochi. Abbiamo anche i percorsi tattili per gli ipovedenti per potersi orizzontare all'interno della struttura e abbiamo lavorato molto anche sulle pendenze dei camminamenti affinché non fossero scoscese e potessero consentire alle persone con disabilità motoria di poter percorrere tutti i camminamenti in maniera assolutamente sicura e senza nessun tipo di ostacolo che potesse determinare una limitazione all'uso del parco. La sicurezza è garantita appunto dal sistema di videosorveglianza, un sistema di quelli avanzati che consente comunque una definizione delle immagini abbastanza buona a differenza diciamo dei vecchi sistemi che comunque sono da modernare. C'è il sistema di SOS per eventuali soccorsi e necessità comunque di interventi all'interno del parco e a questo punto siamo proiettati verso la prossima sfida poiché il 5 di maggio scade la conferenza dei servizi del parco Saraudi per cui noi già pensiamo di inaugurare l'anno prossimo un nuovo parco, una nuova struttura da mettere a disposizione della città.